Il magico giardino di prezzemolo della piccola Aise. Una storia meravigliosa che fiorisce con l'amore di un bambino. C'era una volta una bambina allegra di nome Aise. Una delle cose preferite di Aise era giocare in giardino. Era arrivata la primavera, gli alberi sbocciavano, i fiori cominciavano a sbocciare. Anche la madre di Aise amava lavorare in giardino durante questo caldo. Un giorno, mentre sua madre si preparava a piantare qualcosa di nuovo nel giardino, Aise voleva aiutarla. Mamma, lascerai fare qualcosa anche a me? Ha chiesto. Sua madre sorrise amorevolmente e decise di darle una sorpresa. Certo. Aise, facciamo un piccolo orto. Vuoi farlo? Ha detto. La faccia di Aise si illuminò di gioia. Lui e sua madre sono andati al garden center. Hanno visto diversi pacchetti di semi lì. Aise ha semi di prezzemolo bloccati nel suo occhio. Mamma, voglio crescere il prezzemolo. Ha detto e citato. Anche sua madre voleva esaudire questo suo desiderio. Quando tornarono a casa, Aise e sua madre misero da parte uno spazio nel giardino. Hanno scavato bene la terra, l'hanno annaffiata. Poi Aise prese i semi di prezzemolo tra le mani e li cosparse con cura per terra. La loro madre le disse che doveva annaffiare e curare regolarmente per coltivare il prezzemolo. Quando Aise si alzava la mattina ogni giorno, prima andava nel suo giardino, inumidiva il terreno e accarezzava amorevolmente il suo prezzemolo. Nel corso del tempo, i semi germogliarono e cominciarono ad apparire piccole foglie verdi. C'era uno sguardo di orgoglio sul volto di Aise. Dopo alcune settimane, il prezzemolo aveva iniziato a crescere. Il giardino di Aise era colorato. Mentre crescevano, Aise stava chiamando loro nomi, chiacchierando con loro. Stavano anche salutando educatamente con il tue, come se capissero Aise. Un giorno, Aise ha deciso di fare un picnic in giardino con sua madre. Mentre i preparativi venivano fatti, Aise strappò anche il suo prezzemolo. Dovrebbero essere anche sul tavolo da picnic, pensò. Quando raccoglieva il prezzemolo, lo selezionava con cura, lo ordinava in base alle sue dimensioni e lo lavava magnificamente. Poi venne da sua madre e disse, ecco, mamma, ho raccolto il prezzemolo nel giardino. Possiamo usarlo per decorare il nostro tavolo da picnic, disse con una risata. Mia madre fu molto sorpresa e felice quando vide il prezzemolo che Aise aveva accuratamente raccolto. Che bello da parte tua pensare, Aisha, ha detto. Mentre preparava il tavolo da picnic, Aise mise il prezzemolo splendidamente sui piatti. Il prezzemolo che hanno messo al centro del tavolo sembrava un bouquet verde. Aise e sua madre hanno preparato deliziosi panini con verdure raccolte dal loro giardino. Aise ha aggiunto molto prezzemolo ai panini. Il prezzemolo ha aggiunto un odore fresco e freschezza ai panini. Aise e sua madre hanno goduto di deliziosi panini mentre facevano un picnic. Dopo il picnic, Aise e sua madre tornarono in giardino. Il prezzemolo sta ancora crescendo bene. Aise li ringraziò e disse, tu sei una delle mie verdure preferite. Mi prenderò sempre cura di te e ti amerò, ha detto. Il prezzemolo, come se lei gli sorridesse con gratitudine. Il giardino di prezzemolo di Aise ha anche attirato l'attenzione dei suoi vicini. Tutti sono rimasti sorpresi nel vedere il giardino di Aise e il prezzemolo che cresce. Il verde del giardino aggiunge gioia e bellezza all'ambiente. Aise strappò del prezzemolo da condividere con i suoi vicini e lo diede loro. Martedì dice, qualche tempo dopo, il giardino di prezzemolo di Aise divenne famoso anche tra i bambini del quartiere. Ognuno ha iniziato a piantare prezzemolo nel proprio giardino. Aise è molto felice di questa situazione. I decotti hanno fatto sì che le persone si riunissero, condividessero e fossero più interessate alla natura. E così, il giardino di prezzemolo della piccola Aise ha illuminato non solo la sua felicità, ma anche l'intero quartiere. Mentre tutti si divertivano a mangiare il prezzemolo che Aise aveva coltivato con amore e cura, Aise guardava il suo giardino con orgoglio. Ora il giardino di prezzemolo era diventato molto più della semplice somma delle piante che un bambino aveva coltivato amorevolmente. Era un esempio dell'importanza di condividere con i vicini, proteggere la natura e crescere insieme. Aise non ha dimenticato il giardino di prezzemolo anche quando è cresciuta. È sempre stato grato per quel giardino, che ha imparato a rispettare la natura e crescere con amore. Ha cominciato ad essere conosciuta tra la gente come la ragazza prezzemolo e la sua storia ha ispirato altri bambini come Dec. E così, il giardino di prezzemolo della piccola Aise è iniziato con l'amore innocente di un bambino, ma ha assunto un significato più grande. Creando un legame tra le persone, ha insegnato a esplorare, condividere e crescere decentemente insieme le bellezze della natura. Di conseguenza, il giardino di prezzemolo di Aise è diventato una storia che ha dimostrato che anche un bambino piccolo può fare una grande differenza. Le piante piantate con amore, coltivate con cura, sono diventate non solo un giardino, ma un simbolo che rappresenta l'unità della società e l'armonia con la natura.